Ciao a tutti, sono Regina e vi do il benvenuto nel canale della Neve Cosmetics Sono qua perché ovviamente la Neve Cosmetics ci ha iniziato con una novità è una novità che racchiude una vera e propria magia infatti si chiama Estasy Magic L'Estasy Magic è un balsamo multiuso reagente con il vostro pH una volta che lo applicate sulla vostra pelle, delle guancia o delle labbra infatti è stato studiato come un prodotto multiuso per essere applicato appunto su diverse zone del vostro viso reagisce con il pH della vostra pelle e tira fuori una bellissima e dolcissima nuance una nuance di colore che tira sul rosato però ovviamente in base all'intensità del vostro incarnato e in base alla gradazione del colore del vostro incarnato, il sottotono tira fuori un colore più o meno rosato su di me che sono chiara e con il sottotono rosato tira fuori una nuance del colore freddo, rosato, abbastanza acceso super portabile sia sulle guance che anche sulle labbra sulle ragazze che hanno un'intensità di colore un pochino più spiccata e un incarnato con un sottotono più caldo ovviamente tenderà ad avere un effetto leggermente più corallo quindi sarà un rosato che si sposerà meglio con un incarnato caldo è un prodotto facilissimo da utilizzare potete applicarlo direttamente sulle vostre guance o sulle vostre labbra senza avere per forza lo specchietto a disposizione infatti sono sicura che lo adorerete nei vostri momenti di vacanza o di relax perché lo buttate nella borsetta, lo tirate fuori in occasione giusta e rallevate il vostro incarnato dandovi un aspetto più fresco, rimpolpato e luminoso ovviamente è chiaro che non richiede l'utilizzo di nessuna tipologia di pennello lo tirate fuori, lo applicate sulle labbra, lo passate sulle guance lo stendete un pochino con i polpastrelli e il gioco è fatto quello che vi consiglio di fare se siete già truccate sul viso con i polpastrelli magari prelivare il prodotto prima della confezione e poi tamponarlo sul viso senza stresciarlo delettamente per non portare le modifiche alla base che avete fatto sotto se vi piace un effetto semi umido, luminoso, rimpolpato lasciatelo pure così e non si muove questo prodotto rimane bello fisso sulla vostra base se invece volete donarvi un aspetto leggermente più mattificante prendete la vostra cipria preferita e passate da sopra quello che mi sento di consigliarvi per poter giocare perché la Nome Cosmetics ci offre un'infichità di colori, di cialde, di ombretti, di blush di ombrette minerale in polvere libera quindi potete giocare anche al di sopra di questo balsamo applicando un colore in polvere ad esempio un pochino duochrome oppure di un colore che vi piace per farli prendere una nuance sempre nuova ad esempio in questo video vi ho fatto vedere come sopra l'estesi magic ho applicato il blush startish che ha una colorazione corallo rosata e quindi gli dona questo look un pochino più fresco, riposato, un pochino più corallo e dall'altra parte ho usato con uno dei miei ombretti mono preferiti che ha un effetto un po' cangiante, duochrome che ha questi riflessi freddi di fucsia, lilla e rosa e quindi aveva acquisito una colorazione totalmente diversa non sottovalutiamo anche l'effetto idratante di questo prodotto perché all'interno troverete un mix di cere vegetali che andranno ad idratare la vostra pelle e farla sentire rilassata, rimpolpata, riposata e molto fresca la profumazione dell'estesi magic è molto delicata e molto sottile sa di mela rossa e champagne e sono sicura che vi piacerà tantissimo perché è un mix bilanciato tra qualcosa di fresco ma anche un pochettino del ciastro però in maniera molto molto delicata sono sicura che non vedete l'ora di provare questo prodotto e farà parte della vostra beauty routine quotidiana in tutte queste bellissime giornate che stanno per arrivare e io non vedo l'ora di vedervi nel prossimo video un bacione grande a tutti e io non vedo l'ora di vederti